se non mi conosce sapete bene che io sono io io o meno si che sta, si ha presentato notizie l'altro giorno e ha tentato di spaventarmi, pensa dice mi ho paura di qui doveva, doveva che cazzo, cosa che dà voglia a mi? ma guarda di che roba ancora, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito ah, adesso ho capito, ho capito, che quando che passi a parlare, mi ha visto il cane, ho capito e mi avevo paura di cani, non è di leon, se tu vai, su un cuore, lui la parola, il Gesù, aveva ragione lui, do addirittura, non è possibile, hai ragione, ma che si è rosa questa roba qua no, non ho paura, comunque guarda che io non ho paura neanche dei gatti, figurati ancora ancora un d'interessi no, what are you waiting for? do it do it mi sono rotto le scatole, basta mi sono rotto le scatole, basta ti capita ancora così che sia un virus bisogna fare una ricerca approfondita sicuramente una maiatia rara bisogna fare bisognerà fare una una processione come è di moda quella che è colata per sensibilizzare sensi non mi viene sensibilizzare la gente però l'impressionale è straordinario ancora ancora porco boia questa volta ho capito basta, basta, sere tut ho capito io